SEI, CINQUE, QUATTRO, TRE, DUE, UNO, VOI A VETE! Ragazzi, ma che cazzo state facendo? Stiamo festeggiando la Festa della Repubblica. Eh, non si festeggia così. Ma perché? Come si festeggia la Festa della Repubblica? Andando a votare. Ma adesso? Eh, andiamo a votare. Andiamo. Questa è la Festa della Repubblica.